Non sono positivi i primi dati che arrivano sulle vendite durante il periodo natalizio, soprattutto in centro storico a Teramo? Sì, purtroppo è mancata un po' di frequentazione del centro storico e questo lo si è sentito proprio anche in termini economici e numerici. Purtroppo quest'anno è così, come dire, ci prendiamo il Natale così come è venuto, è in questa situazione. Crisi, terremoto e lavori sul corso principale? Sì, quest'anno non possiamo aggiungere nient'altro, proprio perché tra le tante situazioni questo anno davvero complicato il lavoro in termini proprio economici. Purtroppo sia il corso che ha anche un po' attenuato il passeggio e quindi la presenza di persone in centro storico. Nonostante il bel tempo? Nonostante il bel tempo, diciamo che forse il lavoro negli ultimi giorni qualcosina si è movimentato, però certamente non ha aiutato il recupero di quello che è stato un po' la prima quindicina di dicembre che certamente non è stata favorevole. Lei ci diceva che non ci sono ancora i dati ufficiali, quelli ufficiosi in che percentuali dicono che c'è stato il calo? In termini numerici ancora non li abbiamo, tra qualche giorno potremmo dare un dato un po' più certo. Certamente rispetto all'anno scorso siamo intorno a un 10-15%. Speranze per i saldi? La speranza è proprio questa, di poter recuperare questo numero negativo con i saldi. Speriamo anche che ci sia frequentazione anche lì, perché se anche per i saldi rischiamo di avere un dato negativo, davvero quest'anno è un anno nero per Terra, ma per il commercio. Grazie.